sia audace si sicuro il karate è l'arte marziale che dona forza e sicurezza a tutti impara le tecniche di autodifesa acquisisci fiducia e trasforma te stesso la palestra di karate a milano dove insieme percorriamo una strada sono pasquale acri comincia oggi stesso il tuo percorso fisico e mentale